Uno è pronto per forza perché arriva la data, la scadenza e quindi giochiamo con il nostro livello. Il livello si può sempre migliorare. Se noi avessimo tre mesi di tempo miglioreremmo il nostro livello. Ma non le abbiamo noi come anche i nostri avversari e quindi andiamo e giochiamo e sappiamo che possiamo fare un buon torneo. . Ossia, ovviamente, non abbiamo il voto, ma siamo rimani. Ci sono molto tempo, così a dire che in ogni giorno possiamo farlo. Non abbiamo un altro voto, ma non possiamo farlo. Ci possiamo fare tutto. Ci siamo tre mesi, ma questo è importante per altri esititi, così a dire che abbiamo arrivato una idea di esituzione. L'esquadrà bulleria non è abituale a gioca piano degli paesi per il campionato europeo, è già la prima volta che capita da tanto tempo. Secondo lei può essere utile anche questa qualificazione in quel momento che la squadra non ha giocato tante partite? E' anche utile per inserire i giocatori nuovi come ha fatto anche nella partita di oggi? Quando si cominciano delle partite non si pensa mai quante volte ho giocato la qualificazione quante volte la Bulgaria ha giocato o non ha giocato, ogni giocatore pensa come battere bene, come ricevere bene, come attaccare bene, come vincere la partita di oggi e tutti noi giochiamo per vincere la partita di oggi, quindi nessun pensiero particolare deve andare alla storia ma a come vince e noi andiamo, dobbiamo fare la qualificazione, andiamo per fare la qualificazione. Non sarà facile perché le squadre avversarie sono di buon livello, molto combattive, però abbiamo fiducia noi stessi. non si può essere utile per noi, diciamo in questo periodo che noi siamo anche nella fase di ricostruire questa squadra e seguendo le giocatori nuovi, giovani. Sì, ho capito. Ogni episodio che comporti giocare delle partite ufficiali, allenarsi e giocare partite ufficiali ci dà qualche cosa, ci aggiunge qualche cosa alla nostra abilità, quindi sicuramente questo periodo, queste due settimane di preparazione e poi la settimana che giocheremo in Israele sono rano utili, quanto non sono, ma sono rano utili per la construzione della squadra. In quanto riguarda il campione, quali sono i qualificazioni sono i qualificazioni che sono in prozessioni per qualificazioni, il campione è sicuramente un campione con troni e parte della squadra, con il campione e una squadra, sempre è benvena per l'escrizione di un campione. Per quale spesso questo ci ha aiutato, mi è rano da raccomando, ma sicuramente sono sicuramente i campioni sono utili per noi. Tutti tutti i nostri amici? E come è Niki Nikolov? C'è proposta di oggi, avverso. La domanda è una domanda di tutti i giocatori che sono qui. E c'è qualcuno che non farà parte della squadra. E come sta Niki Nikolov? Perché oggi non ha giocato, ieri, solo i primi due settori. Comincia dalla fine. Niki Nikolov sta abbastanza bene. Aveva una contrattura muscolare alla schiena. Ma se fosse stata una partita ufficiale, lui con un antinfiammatorio avrebbe giocato 5-7. Per quanto riguarda la squadra che partirà a lunedì per Israele, abbiamo ancora qualche giorno di allenamento. E la squadra è fatta dai 14 che erano qui, ma anche da altri 5-6 giocatori che si stanno allenando con il loro club. Mi riferisco a Vladistankov, Gordon Ljuskanov che si allenano con Levski. Mi riferisco a Gheorghi Petrov e Ilya Petkov che si allena. E non sto chi sto dimenticando, qualcuno lo sto dimenticando evidentemente. Sono giocatori che sono disponibili nel caso di infortunio o nel caso di scelte mie differenti, perché è possibile anche che io faccia delle scelte differenti. Questo gruppo di 14 giocatori che sono qui, a cui ho studiato in questi scelte, è una gruppa principale, che ho ho definito, ma per loro c'è ancora 4-5 giocatori, che qui, quando si sono infatti, si sono orizzati a scelte, ad ircocatori che si sono a preparare e questo si può succedere quando si è iniziato con un problema oppure se si avessi un problema quindi in realtà il gruppo è più veloce 18-19 giusti che sono preparati e 14 stessi passati in pomeriggio Quoi elementi trebbano a fare iniziare? Quoi elementi trebano a fare iniziare? prima della qualificazione per essere diciamo più forti. Noi ogni giorno, noi dello staff ogni mattina facciamo una riunione per esaminare al video tutti gli aspetti del nostro gioco e quindi ogni allenamento, domani pomeriggio allenamento, io avrò un programma per migliorare qualche automatismo del nostro gioco, sia di attacco che di difesa e quindi non è mai uno solo, perché sono una copertura di attacco che si può fare bene, un gesto di difesa che si può fare meglio, una scelta in servizio che si può fare meglio, tutte queste cose. In il nostro gioco abbiamo un programma di attacco 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 di attacco. Quindi, ossia una copertura che in a few% di attacco 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 di attacco. Ma l'internità è che niente non è solo una cosa che può essere migliori, per cui si può essere migliori e così da ti darà un risultato. Sempre c'è una complessità, una delle cose, in un momento in cui il senzio ha fatto un vero inizbore per il servizio, in cui il senzio è piaciuto, in cui il senzio è piaciuto il senzio, oppure il senzio in una situazione ha fatto un vero. Quindi questi sono fattori, in cui noi ogni giorno siediamo e ogni giorno comuniciamo con i giocatori, e speriamo di poterciare.